cari amiche e cari amici buon natale a chi se lo merita di roberto pecchioli dicono che a natale si diventa più buoni non è vero tutt'al più si è più ipocriti che nel resto dell'anno è tutto un fiorire di sorrisi stereotipati strette di mano l'immancabile parolina magica auguri il significato della parola richiama gli auguri i sacerdoti romani che interpretavano come presagio il volo degli uccelli l'augurio è quindi un auspicio un desiderio ebbene io non desidero affatto un buon natale per tutti innanzitutto perché da credente cristiano mi piacerebbe che ritornasse una riflessione anche breve piccola sul significato di quella nascita di oltre 2000 anni fa nulla silenzio perfino da parte di tanti uomini e donne della chiesa troppo impegnati con i nuovi dei l'idolo paciamama i migranti per tacere di chi si occupa prevalentemente poi di affari o di traviare fanciulli poi perché come milioni di altri troppo spesso ho vissuto il natale come costrizione era doveroso trascorrerlo con i familiari spesso in condizioni psicologici che è difficile in compagnia di persone che in fondo non amavo infine ed è il motivo più forte non sopporto più il luna parca del consumo dei mercatini delle luci per strada l'obbligo dell'allegria forzata il babbo natale in plastica made in cina che si arrampica dai poggioli mi sento e lo scorrere degli anni come l'autoritratto diego schiele nudo scorticato con uno sguardo innaturale le braccia penzoloni in posizione improbabile o come uno che ascolta una musica ma avverte solo la dissolvenza in questi giorni si sentono più acute le assenze e ogni anno di più si lascia sulla strada qualcuno e qualcosa che non tornerà resterà la nostalgia un dolore strano per il quale non conosciamo analgesici natale poi è vicino alla fine dell'anno inevitabilmente ciascuno fa bilanci la maggior parte porta il segno meno e il colore rosso tuttavia bisogna ringraziare dio innanzitutto per quello che ci ha dato dallo scorso natale la buona salute le persone che amiamo che ci sono state accanto un loro sorriso ci risarcisce di tante delusioni del male visto ricevuto e ammettiamolo anche di quello fatto allora si scioglie il cuore di pietra del vecchio guerriero senza pace metto da parte l'avversione natalizia e faccio anch'io gli auguri quelli veri quelli che significano il desiderio del bene della felicità della fortuna ma non a tutti e sia chiaro nonostante il consumismo aggressivo voglio dimenticare una riflessione del sociologo valerio valeri sulle feste le feste non sono necessariamente trasgressive lungi dall'essere il caos supposto da alcuni teorici sono più spesso il culmine dell'attività organizzata di molte società così è così ma gettiamo all'ortica i pensieri e scendiamo sulla terra un buon natale che deve lavorare innanzitutto e sono molti poi milioni che dovranno condividere la festa con persone che non amano consolatevi con la riflessione che ho consegnato a me stesso per tanti anni anche natale dura come gli altri giorni in poche ore è finita buon natale a chi sta male e alle tante brave persone che fanno qualcosa per gli altri il credente rivolga una preghiera sincera per loro buon natale infine a chi sarà lontano da chi ama non è stato un esercizio di buonismo retorico per bilanciare quanto detto all'inizio buon natale insisto solo a chi se lo merita per tutti gli altri e sono tanti nessuna mano tesa nessun sorriso di circostanza e nessun augurio stereotipato ve lo dico chiaro non mi importa nulla del vostro natale se mi importasse qualcosa vorrei il peggio parlo di voi cinici che conoscete solo il tornaconto voi che vi mettete sempre dalla parte dei più forti del potere perché conviene perché lì è più comodo li chiamo con una punta di cattiveria gli juventini della vita quelli che vincono sempre in un modo o nell'altro o almeno così credono ricordate lo splendido brano dei nomadi dio è morto una strofa mi ritorna in mente in questo tempo in cui avanzo attentoni è venuto ormai il tempo di negare tutto ciò che falsità le fedi fatti di abitudine e paura una politica che solo far carriera il perbenismo interessato la dignità fatta di vuoto l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto è un dio che è morto infatti ignoriamo la sua presenza pure nel giorno in cui è nato quale buon natale dunque ad essere generosi tutt'al più buona digestione strafogatevi tenete a portata di mano la magnesia per l'intestino nessun buon natale ai politici che cambiano pelle e il governo senza batter ciglio negano ciò che affermavano ieri con la mano sul cuore e quale augurio si può fare a chi ci trascina nelle fauci di finanzieri al di sopra di ogni legge informatevi italiani informatevi approvando il mess meccanismo europeo di solidarietà un nome che assomiglia all'idea che la ghigliottina sia un ottimo rimedio per l'emicrania 125 miliardi di euro quasi 250 mila miliardi del vecchio conio regalati a dei gentili signori che ce li presteranno a strozzo in caso di bisogno anzi no siamo troppo indebitati li daranno alle banche tedesche pieni di titoli tossici insomma nulla di nuovo un tale paragonava il prestito delle banche all'ombrello ve lo danno quando splende il sole se lo riprendono alle prime gocce di pioggia ai falsari del mess non auguro neppure la buona digestione si strozzino in mezzo ai nostri miliardi nessun buon natale a chi fra corollare i punti delle autostrade nello stesso tempo in cui realizza profitti miliardari denaro che sarebbe potuto entrare nelle case pubbliche se non avessero svenduto il patrimonio di tutti l'unico augurio per costoro e per i loro servitori politici è che allunghino le loro vacanze e faranno meno danni se resteranno in italia almeno aumenteranno il pil se lo possono permettere nessun buon natale a chi ha chiesto voluto ottenuto e promulgato le leggi che hanno reso il lavoro una schiavitù precaria 4 5 euro l'ora di salario contratti a tempo lavoro in affitto correre e tacere e viva la democrazia viva il progresso e che dire degli scafisti degli sfruttatori dell'immigrazione clandestina dei loro patroni internazionali soros e compagnia orribile e dei loro amichetti e dei loro amiconi in casa nostra uccidono una civiltà sfruttano nuovi poveri cristi e più ci guadagnano applausi in platea e ahimè anche dall'oggione vogliamo augurare buon natale ai pedofili icone senza tonaca ai farabuti di tutte le razze che hanno scelto lo perché quasi garantita l'impunità non riusciamo a fare alcun augurio neppure a certi personaggi mediatici come un vignettista di cui non scrivo il nome per rispetto dei lettori che per natale ha prodotto una fenomenale prestazione intellettuale gesù neonato nella grotta piange disperato con ai lati nel ruolo di giuseppe maria due capi dell'opposizione chiedendo di essere portato a bibbiano eh sì già proprio nel paese in cui si sono svolti ah no si sarebbero svolti per loro signori il garantismo abusi e illegalità a carico di minori e sottrazione dei figli ai genitori a proposito vogliamo fare gli auguri ai protagonisti di quelle disgustose vicende estese magari alle famiglie omogenitoriali al vario pinto circo lgbt eh no davvero nessuna cordialità natalizia neppure per i giornalisti che da anni attraverso il gruppo carta di roma hanno riformulato le parole dell'immigrazione clandestino eh no non si può più dire perché le frontiere non esistono chi arriva è sempre rifugiato un profugo chi non è d'accordo è xenofobo ma è meglio razzista è più diretto e definitivo pessimo natale ai cultori del politicamente corretto che cambia le parole per formattare i cervelli chiamare bianco il nero e acqua il vino pessimo orribile natale agli inventori del black friday alle offerte speciali al comodo pagamento rateale a chi aspetta natale solo per non lavorare forse sono solo diventato vecchio non so non capisco guardo il mondo da un oblò mi annoio un po non riconosco più luoghi persone cose aspetto l'epifania che tutte le feste si porta via buona digestione ma è carino è roberto vecchioli bene amici un pollice su per il mio lavoro e sempre incollati al decimo toro un caro abbraccio a tutti marco cosmo